Musica Dalla raccolta io fui mortale, tra eutanasia e ghigliottina. Tra eutanasia e ghigliottina, le mie sbizzarrite molecole, tra sortileggi, avverenti attese, improbe rincorse nella nebbia, oppure disincanti, monotone certezze, tranquille soste sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso. E così sia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.